Il piloto di Mototierra 1-2 Carminia è la prima posizione Seguite Hai già le passate il relato È trastato Ay, ayy, 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 ay Ay, ayy, 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 ayy Il pilota de moto Pierrot di dels estabahws Se mantiene Atenzione, 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 Rolino Brugimere, sta nella prima posizione, passa alla tercera posizione Darlitruz. Atenzione, 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 Atenzione Se acerca Darlene Croce in la tercera posizione Sì, 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 sì. Sì, 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 s'il Grazie, grazie, grazie. La seconda posizione mecanica per finito sempre E' la prima posizione di Dauly Pérez La seconda 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 posizione di Dauly La seconda posizione di Dauly Pérez 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 Grazie a tutti.